Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il lanciere e come potete vedere ritorniamo con un nuovo video dedicato alle card score della serie A 2021-2022 Abbiamo il nostro box dei fatpack, ci andremo ad aprire qualche fatpack insieme e vediamo finalmente se riusciamo a trovare qualche card veramente importante Prima di partire con l'unboxing però vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto Attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che pubblicherò sul canale e schiacciate un bel like al video Detto questo partiamo subito e andiamo ad aprirci il primo pacchettino Eccoci qua, allora Vediamo subito che cosa troviamo Chiaramente siamo molto più interessati alle card rare però ce ne andiamo a vedere insieme tutte Allora, Belek, Malì, abbiamo carte che ormai abbiamo imparato a conoscere Me ne mancano 7-8 per completare la collezione base Ovviamente parlo delle carte delle prime 200 Ciro Immobile, Ciro Immobile mi sa che è una di quelle che mi manca perché l'ho trovata parallela Orsolini, Veretù, Montipò, Sanabria, Maxim Lopez, Biraschi, Lezzerini, Sing, Singo Poi abbiamo Andrea Consigli, Pedro Poi abbiamo Pussetto, poi abbiamo la parallela laser non numerata di Simi E mi sa che ne ho vista un'altra di parallela non numerata Andiamo a vedere subito Eccola qui, è la parallela laser non numerata di Jordan Veretù Della Roma Poi abbiamo una All Hands Team, è Emil Audero E una Breakthrough, è Patrick Cutrone Quindi in questo pacchetto abbiamo trovato le due laser non numerate di Simi e Veretù E le due rare Breakthrough di Cutrone e la All Hands Team di Audero Il resto ovviamente card base Altro pacchettino Parte subito con Paolo Di Bala Stulac Nicolo Barella Coulibaly Magnan Daniele Verde Matteo Politano Muriel Castro Vigli Nicolao Alex Meret Federico Chiesa Samuele Ricci Poi abbiamo Marco Silvestri Portiere dell'Udinese De Lufeo Scoten Nicolo Zaniolo Frabotta Linetti Traore Rovella Caldara Poi abbiamo Barro Michi Gitarian Salvatore Sirigu Poi abbiamo Pereira Passiamo alle carte rare Abbiamo trovato Cristiano Biraghi Della Fiorentina Della Fiorentina Davide Biraschi Biraghi e Biraschi Altre due parallele Non numerate Poi abbiamo Una Scor Team Del Venezia Eucchi Reche E un'altra All Hands Team E Mike Magnan All Hands Team Lo mettiamo qui E andiamo avanti Con il terzo pacchetto Altro pacchettino Allora direi di andare veloce A questo giro Andiamo un po' qualche carta C'era Hernández Insigne Gabriele Zappa Quarta Coulibaly Lasagna Milinkovic Savic Rodrigo Becao Che è la carta più rara Che ho trovato Fondamentalmente È una Parallel A5 Una Parallel Verde Poi abbiamo Vediamo qui Malinoski E Altra Parallel Non numerata È Maxim Lopez Quindi Malinoski Maxim Lopez Poi abbiamo Attenzione Attenzione Grandissima Breakthrough Di Marine Parallela 9 di 10 Quindi Bel colpo Eccola qui La nostra Carta Numerata Arriva Delle Carte rare Beh Questa è una bella carta Questa è sicuramente Una bella carta La mettiamo da parte L'altra era La Hot Rookies Di Matteo Ruggeri Per il resto Tutte parallele In versione Non numerata Allora De Ligt Helmas Marine Eccolo qui Che abbiamo appena trovato Breakthrough numerata 9 su 10 Benna Serra Scesni Lozano Destro Johnson Torsby Milinkovic Savic Un po' di doppie Samir Arnautovic Candreva Allora Andiamo a vedere Abbiamo Frattesi Cambiaso Tesman E Ho trovato Victor Osiman Parallela Red Non numerata Ma questo è un top player E quindi sono contento E poi Sotto c'è Antonio Sanabria Del Torino Altra parallela Non numerata E vediamo Score team Jordan Veretù E All hands team Rui Patricio Quindi due carterare Tutte e due Romaniste Veretù E Rui Patricio Ultimo Pacchettino Della serata Ne volevo aprire Quattro Ma Andiamo ad aprire Anche un quinto pacchettino Magari Ci va ancora meglio Non è andata male Con la breakthrough Numerata Vediamo Se troviamo qualcosa Di meglio Purtroppo Non sono molto fortunato Con le card Con le card rare Insomma Tammi Abram Luis Alberto Skorupski Abbiamo Mi sa che ho visto già Raspadori Versione base Qualc'altra parallela Red Quindi non numerata Vediamo Dopo vigna Che cosa troviamo Eccolo qui E Nathan Nandes Parallel Laser Red Non numerata Uuuuh Altra Gran bella Carta La parallela A 10 A 10 Parallela Numerata A 10 E Balanzola Nello Spezia Beh Sicuramente Anche questa Non è una Una brutta carta Poi abbiamo Lasovic E Martin Derun Next level E breakthrough Beh Questo è il nostro bottino Poteva andare meglio Ma ragazzi Vi ricordo Può anche sempre Andare peggio Ho trovato Due carte Numerate A 10 Una Di Balanzola Una delle 200 carte Base Versione gold A 10 E una breakthrough Versione gold 9 su 10 E Razvan Marine Del Cagliari Due Gran Belle Carte Con queste Supercard Ecco la card Di Victor Osiman Red Parallel Laser Quindi Non numerata Vi voglio Salutare Ma non prima Come sempre Di avervi ricordato Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Ragazzi Vi ricordo che L'iscrizione è gratuita A voi non cambia niente Per me Fa una gran differenza Il vostro supporto È molto molto importante Attivate la campanella Per rimanere sempre aggiornati Su tutti i video E le novità Che andrò a pubblicare Sul canale E soprattutto Schiacciate un bel like Al video Detto questo Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao